e poi dopo una volta un palmo più o meno prendi qua punti qua e tira e vedi che ogni volta giro senso orario e alto il fuoco no si e anche che prende struttura per poi mettere lì allora una volta fatto il sotto che vedi che è cotta bene è spento il fuoco no di si il fuoco sta desligato ora è solo pò in cima del fuoco per non cheimare preassei in basso vedi che subito bene la borda e ora sto mettendo la cobertura per volare al forno vedi capito quando andate in bresile no bisogna che ti portiamo a te vi piace il bordo più alto o lo faccio più basso la posta no più alto a posto la pizza tu a me la pizza romana non mi piace anche a me il margherita faccio la prima? sì hai un po' di basilico? vai abbiamo quello della fioriera nostra a posto vai guarda che profumo sì basilica ma sai questa cosa dell'origano francesco io sto studiando un po' le piante aromatiche e dipendendo da dove stai di latitudine latitudine cambia è più aromatica o meno aromatica infatti qua in Italia è più aromatica che in Brasile qui è più aromatica qui in Francia stiamo in una zona proprio potente però quando esce vado? sì basilico un po' d'olio c'è? sì qui vai vai fatto scusami o lalà di qua è proprio crocante mi piace non quindi allora